Una rete di scambio di contatti e referenze che in pochi anni ha generato un volume d'affari di 8 milioni di euro. Si chiama Amici Miei ed è il capitolo cremonese dell'Organizzazione Mondiale BNI. I suoi membri, provenienti da qualsiasi settore lavorativo, si ritrovano ogni giovedì mattina, qui nella sede del Lago dei Cigni, in Via delle Industrie a Cremona, prima di iniziare la giornata. Amici Miei è un gruppo di imprenditori, siamo 32 imprenditori per ogni settore merceologico della provincia di Cremona e ci troviamo ogni giovedì mattina per scambiarci referenze e creare opportunità per aumentare il business. Questa infatti è la casa del business cremonese. Questo capitolo è lanciato nel 2016 e ad oggi ha raggiunto gli 8 milioni di euro di affari conclusi generati all'interno del gruppo ed è un grande risultato per la nostra città. Un capitolo in costante espansione e aperto potenzialmente a tutti. Uno alla volta i membri parlano della propria attività e illustrano richieste e necessità per poter allargare il proprio business. Gli altri membri possono vicendevolmente rispondere. Questi 8 milioni di euro significa che sono affari che si sono generati tramite scambi di vostri contatti e referenze, giusto? Esatto, sono affari conclusi tra membri del nostro capitolo che si sono referenziati e hanno fatto in modo che altri membri del capitolo possono raggiungere i propri obiettivi. Chiedo quindi al gruppo... Grazie. Grazie.